9 ottobre 2023 Gesù e Jennifer Raccogliete le vostre candele benedette Il male oscuro si avvicina In un momento di profonda contemplazione in una dimensione dove la fede si intreccia con la spiritualità un messaggio divino si diffonde attraverso la voce della Madre Celeste Le parole cariche di amore e compassione risuonano nell'atmosfera come una chiamata al mondo e all'umanità Questo messaggio straordinario è un ponte tra il cielo e la terra un richiamo alla profonda relazione tra l'umanità e il divino Svela l'importanza di una connessione spirituale autentica e della guida materna che viene offerta a coloro che cercano con cuore aperto È un messaggio che invita ad abbracciare la luce divina Leggiamo il messaggio Figlia mia La mia mano gentile si sta stendendo sull'umanità I miei figli sono stati imprudenti e irrequieti perché hanno scelto la mondanità invece dell'eternità Da tempo vengo ad avvertire i miei figli che i cuori devono cambiare Non avverto per paura ma per un grande atto di misericordia che è anche amore Figli miei, è tempo che l'umanità leghi i vostri rosari e cerchi la guida e la protezione di mia madre Indico ai miei figli mia madre perché lei guiderà sempre i suoi figli verso suo figlio Vi insegnerà l'umiltà, vi insegnerà la pazienza e vi guiderà verso una maggiore comprensione del vostro padre celeste Venite figlioli e non perdete tempo E mio desiderio è che vi riunate con coloro che desiderano pregare e formare comunità che vivano nella mia luce Alzate le vostre voci in preghiera Non potete essere una luce per questo mondo scuro se rimanete nascosti Siete chiamati a essere la chiesa domestica e questo inizia nelle vostre case Raccogliete le vostre candele benedette e preparatevi semplificando il disordine e riducendo i vostri beni Pregate lo Spirito Santo affinché vi conceda i doni necessari per discernere i tempi in cui vivete Non temete, non arrendetevi al male Con il battesimo vi è stato dato tutto ciò che è necessario per sconfiggere le tenebre che persistono Figli miei, tutte le guarigioni vengono attraverso l'Eucaristia Quando pregate, chiedete che il mio corpo e il mio sangue lavino su di voi e vi guariscano Ricevete il più grande dei miracoli quando mi ricevete nell'Eucaristia Ora andate avanti perché io sono Gesù e siate in pace Perché la mia misericordia e la mia giustizia prevarranno Grazie a tutti